Torna alla stella il ciclismo riservato alla categoria allievi e juniores. Sarà la giornata azzurra che dopo la pausa forzata ormai più che conosciuta torna il ciclismo su strada a dare il via alle danze alle ore 9 gli allievi con 80 km da percorrere alle ore 14.30 nel pomeriggio la gara riservata agli juniores. 118 km che dovranno percorrere invece gli juniores, il percorso è quello consolidato con più passaggi dalla stella. La giornata azzurra quindi che permetterà di vedere all'opera sia gli allievi che gli juniores con una delle particolarità in più di questo 2022, la possibilità di vedere la gara in diretta. Ci sarà un breve riassunto per quanto riguarda la gara degli allievi prima di iniziare la diretta degli juniores quindi sarà possibile per chi non potrà essere alla stella domenica il 31 luglio di vedere anche la gara. Qualche settimana prima come è consuetudine è stata presentata la manifestazione andiamo a sentire gli interventi. Una faccia che abbiamo imparato a riconoscere il signor Telamo Giorni perché ormai da qualche anno la sua azienda è la sede di partenza sia per la gara degli allievi che quella degli juniores. Se ci diceva poco fa la gente ci viene volentieri, io lo intuisco perché ci viene volentieri. È un oasi, a vederlo sembra un oasi perché si domina, siamo alti, però si domina il Monteserra, le Apuane, tutto, tutto. È una cosa bellissima e sarà perché è mio ma la gente che viene fanno altri complimenti sì che ne posso fare anche io. Una cosa però da sottolineare è l'ospitalità che si trova venendo lì perché lei ci accoglie, mi ci metto anche io nel medio, ci accoglie non così solo mettendo a disposizione gli spazi e già non è poco ma comunque fa anche un po' di convivialità. Sì sì, ora è un po' meno, però facevo una bella porchetta, crostini, caffè, di tutto, panzanella. C'era un mio amico che faceva la panzanella, da quanto gli garbava la gente, io mi meraviglio perché, so, è panzanella. Però c'era gente, venivano nemmeno la trazzeretta a mangiare perché gli garbava, no, mi garba. Io, la mia passione è la soddisfazione di servire la gente il meglio possibile. E poi quale cosa migliore, servire la gente sì ma fare un servizio anche e soprattutto per i giovani, i ragazzi che poi corrono. Sì sì sì, no, ma è una soddisfazione vedere la gioventù in quella maniera e poi, insomma, è una bella corsa e viene anche tanta gente, insomma. Allora appuntamento alla prossima domenica 31. Alla prossima, alla prossima. Primo cittadino di Vinci, Giuseppe Torchia, il ciclismo finalmente torna su queste strade che sono un po' la culla del ciclismo. Sì, è vero, dopo due anni di stop, due anni in cui tutte le manifestazioni sportive, in particolare quelle ciclistiche, sono state, diciamo, soppresse dal calendario a causa dell'emergenza sanitaria, ritorna quest'anno la corsa ciclistica, le corse ciclistiche perché a Vinci ne avremo due, avremo questa, il Memorial Cecconi e poi il Gran Premio Città di Vinci la settimana prima. Quindi due importanti costi ciclistiche che fanno parte di calendari importanti e quindi rilanciano la stagione, rilanciano questo sport che è particolarmente sentito nel nostro territorio. E un'amministrazione comunale attenta al proprio territorio, attenta anche al mondo giovanile, non può che dare il proprio supporto? Sicuramente, noi abbiamo sempre sostenuto queste manifestazioni sportive perché oltre a rappresentare una tradizione ormai consolidata del nostro territorio, hanno ancora migliaia e migliaia di seguaci e quindi è un piacere poter, come dire, organizzare queste corse per vedere per le strade tantissima gente. Primo cittadino di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, primo cittadino sì, ma forse prima appassionato di ciclismo? Il primo cittadino di Lamporecchio se non è appassionato di ciclismo non viene eletto, quindi assolutamente sì, certo che sono appassionato di ciclismo e quindi non potevo mancare a questa iniziativa. Quanta voglia si percepisce di tornare a vedere il ciclismo dal vivo? Tantissima, come qualsiasi manifestazione, ma il ciclismo in primis, c'è veramente voglia di rivedere le competizioni, le corse, le gare, partecipare, insomma c'è veramente tanta voglia. Purtroppo non tutte quest'anno potranno essere organizzate, ma la voglia è veramente tanta. E intanto, fino a che si può, diamo il sostegno a chi già ci riesce? Assolutamente sì, anche in questo senso. Chi è riuscito anche quest'anno a rimettere insieme, a rimettere in pista le corse, le manifestazioni, ha necessità e noi dobbiamo assolutamente dargli tutto il sostegno possibile. Il presidente regionale Saverio Metti, il ciclismo torna alla stella dopo questa pausa forzata, ormai ci siamo finiti di dirlo, però è bello che si ritorni subito con due gare, subito con due appuntamenti, molto attesi da tutti. Questa è la gara che chiude un po' la prima fase del calendario, mi ricordo quando si arriva alla fine di luglio si va alla stella, gli allievi e i juniori, poi di solito le squadre poi prendono un po' un periodo di riposo giustamente. E quindi si arriva lì con un campionato italiano appena svolto, si spera sempre di avere alla partenza qualcuno che abbia la maglia, però questa è una corsa che è bella perché poi non è durissima, però è impegnativa tutte e due, per le varie categorie, 80 km cominciano gli allievi a far sentire, quindi è bello venire a farla. Io sono contento perché dopo due anni che come tutti abbiamo vissuto in modo non soddisfacente, però loro hanno avuto la forza di ripartire e quindi sono contento di essere venuto stasera perché il Presidente è nuovo e ha bisogno di un po' di slancio, un po' di euferia. Ho visto che l'ha trovata, ha dei collaboratori molto importanti e quindi sono sicuro che poi il proseguo sarà ancora più entusiasmante. Niente, speriamo che quando si arriva al 31 ci siano, sicuramente ci saranno tanti atleti e che vinca il migliore. Con gli organizzatori delle gare, Valerio Vescovi per gli allievi e Giuliano Baronti per quanto riguarda gli uniores, o meglio loro fanno capo agli organizzatori, poi ovviamente hanno tutto un pool che li segue. In ordine cronologico, rigoroso ordine cronologico, Valerio Vescovi, torna finalmente la gara degli allievi in un territorio che veve di ciclismo, ce n'è bisogno, ce n'è voglia? Ce n'è bisogno e poi è stata, questa è una zona del ciclismo, la zona nostra è una zona per vocazione del ciclismo. Claudio ha cominciato, è stato uno fra i primi a portare il ciclismo nelle nostre zone insieme a Giuliano. Giuliano era magari con professionisti, categorie più grande, però Claudio è quello che praticamente ha iniziato a fare molte iniziative qui nella nostra zona. E nel suo ricordo, per tutti questi anni, per 28 anni, stiamo cercando, stiamo lavorando, abbiamo lavorato per fare queste gare e cercheremo di lavorare, anche come dice Giuliano, sarà molto difficile perché va trovato persone giovani e non è facile oggi trovarle perché veramente c'è, diciamo così, un po' di staccamento della vita sociale a cui eravamo abituati. Io non lo so se è per pigrizia, per paura, per proprio essere stati questi due anni in una situazione che non era la nostra, che non eravamo abituati e forse ci ha indotto, ha indotto anche molti giovani a starsene a casa, col telefonino, col computer e questo è un grosso handicap per noi. Spero, come ha detto avanti Giuliano, di trovare ragazzi giovani che ci possano sostituire perché il ricordo di Claudio sarebbe bello che continuassi ancora per tanto tempo. Potrebbe essere l'occasione proprio della prossima domenica con tutte e due le gare per cercare di ributtare un po' di linfa a questo movimento perché cercare di coinvolgere qualche giovane in più, potrebbe essere l'occasione di dire ah già ma ci sono le gare, magari hanno bisogno di una mano, potrebbe essere un'occasione? Sì, senz'altro, ma non è che siano stati fermi, specialmente Giuliano, quelli insomma si sono dati da fare per cercare di trovare nuove energie perché insomma qualcosa è stato trovato però non è sufficiente perché oggi fare una giornata intera non è facile è più complicato che fare una gara ciclistica e basta, una giornata intera comporta più del doppio lavoro è un'organizzazione che sia bene aggregata, che sappia quello che è e non è facile si spera di trovare qualcuno che ci dia una mano un ringraziamento a tutte queste donne, a tutti della stella che ci danno una mano qui di Lazaretto la casa del popolo che veramente ci aiuta però ci vuole proprio gente che lavorino per questa gara anche perché solo il giorno stesso della gara, anche se sono due gare però solo nell'arco dell'intera giornata solo di personale appiedato per presidiare gli incroci, le persone anche che danno da mangiare a tutti coloro che sono alla corsa ci vogliono grandi numeri di persone e magari chi ci guarda non se ne rende tanto conto mi diceva Giuliano, qui giustamente ci vuole 100 persone soltanto per quello 100 persone solo per quelle che stanno sugli incroci? no, sugli incroci, insomma, quello è dappertutto ecco, immaginati quello per fare una gara oggi, un'intera giornata, quello che occorre occorre e poi occorre che siano giovani e che ci abbiano la volontà la volontà e l'entusiasmo, cosa che comunque non manca neanche a Giuliano Baronti lui lo abbiamo qui più che altro per parlare della gara degli Juniores una gara che ha un suo preciso posto nel calendario Juniores e quindi si aspetta ormai di vedere anche quest'anno che sarà poi anche la gara in diretta sì, diciamo che praticamente è la colza degli Juniores però la diretta viene fatta anche una mezz'oretta dell'allievi che si darà prima degli Juniores e poi Valle Juniores il problema è che per fare una gara oggi per la sicurezza, per tutto ci vuole sia sordi, ci vuole personale, ci vuole gente gente non le troviamo perché la gente non lo so se ha paura di fruarsi in tasca e invece in una società così no, se si viene a cena si paga ognuno la sua, ma questo è una cosa se si va a mangiare ma poi il resto di spese non ce n'è ma bisognerebbe trovare delle famiglie, moglie, marito che venissero perché c'è la cucina, qui si potrebbe fare quello che ci pare però tutto questo per ora non ce n'è, si fa appello, si fa appello ma speriamo che ora dopo la gara sia un altro turno e ci sarà gente nuova Allora intanto siamo ormai alla vigilia, possiamo dire anche della gara degli Juniores stanno arrivando, stanno finendo ad arrivare le varie iscrizioni lo spettacolo comunque è garantito? Lo spettacolo è garantito, io credo che partirà su 100-110 allievi e dovrebbe partire dai 130-150 Juniores sicché la manifestazione è riuscita Direi più che riuscita, abbiamo sentito anche poco fa già abbiamo messo le basi, siamo praticamente alla vigilia a questa presentazione di quello che è il campionato italiano Juniores e poi praticamente anche a quello che sarà quello allievi abbiamo già messo le basi, almeno per Juniores per provare ad avere il campione italiano A noi ci garbano le maglie sicché se la maglia si può e sono disponibili noi non ci tiriamo indietro Giacomo Lamanna, il presidente, potremmo dire quasi il neo presidente perché è stato eletto, poi praticamente la pandemia ci si è messa di mezzo quindi siamo un po' all'esordio con la gara vera e propria Quali sono le emozioni innanzitutto? Tante emozioni perché prima di tutto non sono abituato a interviste, interventi però insomma, il lavoro è facile, problemi ce ne sono e poi c'è l'aspettativa che tutto vada bene che insomma, dopo due anni di pandemia è come essere, diciamo, alla prima edizione diciamo che le cose stanno andando bene gli sponsor ci sono, insomma, ci sono riattivati abbiamo trovato nuove sponsorizzazioni il percorso è sempre lo stesso i comuni ci hanno dato una grossa mano vediamo, speriamo che ci assista anche il tempo che la gente venga e sicuramente ci saranno dei vincitori importanti come sempre perché questa penso sia una delle più belle manifestazioni manifestazioni sia per gli allievi che per gli uniores della Toscana e forse in Italia Abbiamo appena sentito Vescovi e Baronti per quanto riguarda proprio l'organizzazione della gara degli allievi e degli uniores che nonostante il loro entusiasmo lamentavano un po' di lassità nel trovare le persone nonostante questo però voi riuscite a mettere su una giornata azzura vuol dire due gare nella stessa giornata quindi vuol dire comunque che l'entusiasmo dalla vostra parte c'è Allora, anche la scelta di chiamare me alla presidenza per la società della Stella che è una piccola società ormai ci sono 5-6 consiglieri 4-5 famiglie che mandano avanti tutto è stata fatta per portare novità quindi per portare Aria fresca Sì, un po' di social la pagina Facebook piuttosto che il gruppo Whatsapp avvicinare diciamo qualche giovane io sono stato un ex corridore quindi magari andare a agganciare anche ragazzi che correvano con me o che si va in bicicletta la domenica non è facile perché problemi la gente ce l'ha a casa quindi si parlava tempo fa anche con il presidente dell'Avis e donatori del sangue che in questo momento è calato anche le donazioni perché la gente purtroppo pensa più a casa sua e questo è un problema lo sport andrebbe comunque portato avanti soprattutto per i giovani perché fa parte dell'educazione è fondamentale per un mondo migliore diciamo purtroppo le difficoltà ci sono questo è innegabile però anche quest'anno col supporto della Unione Ciclistica Larcianese si riesce a fare tutto e poi vediamo col tempo se qualcuno si avvicina e se riusciamo a aumentare diciamo il nostro gruppo Nell'ottica proprio di questa innovazione dell'aprirsi più ai social da quest'anno l'abbiamo accennato anche con Baronti ci sarà la diretta ci sarà un breve recall per quella che è stata la gara degli allievi poi a partire dalle 15.30 circa la diretta proprio sia in televisione che su internet per la gara degli juniors quindi questo potenzialmente vi dà la possibilità anche di agganciare meglio gli sponsor Sì, allora, questa cosa è stata fatta la faremo per la prima volta quest'anno sono riuscito ad agganciare uno sponsor importante che praticamente ci sponsorizza quasi tutta la diretta anche lui era un ragazzo un cugino diciamo che correva in bicicletta anche lui insomma sono andato a ricercarlo gli ho spiegato un po' il progetto è un'azienda innovatrice nel proprio settore della zona e nulla ha dato subito la sua disponibilità e noi lo valorizzeremo come pubblicità e cercheremo di tenercelo stretto per andare avanti nel migliore dei modi